Buongiorno a tutti, con il video di oggi andiamo a recuperare i generali precedenti al 1914 descritti da generale Francesco Saverio Grazioli. Nella narrazione, nello sviluppo delle analisi dei suoi colleghi, Grazioli è sempre stato molto puntuale nel definire gli elementi di positività, di negatività, gli elementi di continuità e di comparazione con altri comandanti sempre veramente attento alla valutazione di lungo periodo per comprendere un po' anche l'evoluzione delle carriere in relazioni alle opportunità, alle manchevolezze, al contesto più generale di natura politica strategica e quindi militare. I due generali di cui tratterò oggi sono risalenti alla fine dell'Ottocento, uno arriverà a essere importante anche nel primo decennio del Novecento sotto Giolitti e se non lo specifico Antonio Baldessera e Tancredi Saletta. Due uomini delle colonie che hanno avuto il momento di gloria più importante appunto nell'esperienza in Eritrea e che hanno tra alterne vicende dato un contributo di grande rilevanza, soprattutto perché le polemiche suscitate dalle sconfitte in Eritrea davano adito in territorio nazionale a critiche, a proteste di ordine politico, partitico, sociale, della stampa e quindi militari di questo taglio potevano in qualche modo offrire degli spiragli nuovi e delle occasioni per eventualmente proseguire o ricalibrare le attività in colonia. Ma iniziamo su Antonio Baldessera che tra l'altro appunto aveva una pregressa esperienza austriaca essendo stato egli nato in Veneto quindi aveva iniziato la propria carriera militare sotto le insegne dell'impero e che appunto dopo la 1866, dopo la terza guerra di indipendenza, dopo che aveva combattuto due guerre contro i piemontesi italiani, indossò la medesima uniforme, continuando una carriera invidiabile appunto che lo avrebbe contraddistinto in quello che andiamo a evidenziare. Antonio Baldessera, tempra di condottiero, idee semplici, chiare, pratiche, suprema energia d'azione e di comando, sotto una veste abitualmente calma e bonaria ma con scatti di estrema violenza allorché, nei momenti cruciali dell'azione, sentiva il bisogno di imporre la sua irresistibile volontà. Niente dottrinarismo, anzi, irriducibile avversione ad ogni tendenza dottrinaria, implacabile contro i caratteri superficiali, delettantistici tendenti a sfuggirgli di mano. Per istinto diffidava di quei suoi dipendenti che sotto veste brillante nascondevano mediocre qualità d'azione e farraginosa pseudocultura guerresca. Le sue simpatie erano per i modesti ed intelligenti esecutori di ordine che dimostravano però solide qualità nella loro sfera di comando. Sotto l'apparenza fredda e rude aveva cuore nobilmente generoso. Lo dimostrò al processo contro Oreste Barattieri, l'infelice suo predecessore nel comando in Africa e il vinto di Aduo del primo marzo 1896. Lo confortò abbracciandolo ed esortandolo con le parole «Sta tranquillo, io non so se al tuo posto avrei potuto far meglio». Profondo sentimento cameratesco verso un condottiero sfortunato di lui tanto inferiore nell'arte del comando. La sua marcia su Adigrat dopo la debacle di Adua fu un miracolo di ordine, di disciplina, di imponenza guerriera. Valse a rialzare ad un colpo il prestigio delle nostre armi in faccia al nemico, inebriato della vittoria. Fisicamente rassomigliava stranamente a Lorda Kirchner, il famoso generale inglese vincitore di Omdurman, che io conobbi nel 1897 a Massawa. La rassomiglianza non era soltanto fisica, erano due caratteri simili, due tempri simili, di condottieri di ferro. Questo è molto interessante perché offre anche l'occasione a un uomo poliedrico cosmopolita per certi aspetti, come Grazioli che conosceva le realtà internazionali che aveva studiato e che continuava a studiare attraverso anche l'analisi della storia militare, le varie differenze, ma anche i vari punti di contatto tra le realtà delle varie nazioni. Quindi come l'esperienza coloniale tipicamente britannica, in cui appunto gli inglesi avevano avuto modo di sviluppare tutta una serie di casistiche, di occasioni per lo più fortunate, ma anche con rovesci. Sappiamo come la storia britannica non ha, si è contraddistinta anche da esperienza. Il problema è che, come si suol dire per gli inglesi, come diceva Oscar Wilde, l'esperienza è il nome che diamo agli nostri errori. Quindi gli inglesi hanno saputo anche imparare dai loro tanti errori. Pensiamo a Gallipoli, pensiamo ad Anzio, quindi con delle esperienze in cui la politica inglese, soprattutto, e qui torniamo a un discorso di Churchill, che spesso ha preso delle enormi cantonate, soprattutto nei contesti oltremare. E questo è interessante come la, pensiamo poi anche alla sottolinea lina rossa della Crimea, quindi come le difficoltà britanniche si sono andate susseguendo e quindi hanno avuto anche delle occasioni di ripensamento. E quindi ecco interessante come lo stesso Grazioli abbia, riesca a comparare, a dare delle interessanti comparazioni tra le vicende dei vari paesi. Ma passiamo a Tancredi Saletta, un personaggio completamente diverso che ebbe la capacità di tenere lo stato maggiore dell'esercito per un lunghissimo periodo, passando dal periodo diciamo quello ottocentesco, la fine dell'Ottocento in cui vi era anche una gestione della politica interna da parte delle forze armate per arrivare in una proiezione che in qualche modo sarebbe arrivata poi nel periodo successivo con Pollio, ma nella gestione di Giolitti con delle gravi difficoltà, perché sappiamo che Giolitti aveva un odio e amore nei confronti delle forze armate, non a caso avrebbe anche nominato un ministro borghese, quindi anche col discorso delle coperture finanziarie che erano necessarie per un ammodernamento nei mezzi, nell'addestramento, nel cercare anche in qualche modo di adeguarsi alle possibilità o alle opportunità che ancora la triplice alleanza offriva alla macchina militare del paese. Quindi è un elemento interessante anche per andare a comprendere un personaggio come Tancredi Saletta che spesso viene sottovalutato, viene dimenticato come uno dei più importanti capi di Stato Maggiore del periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale che ha avuto un lunghissimo periodo e quindi va anche considerato. Purtroppo in qualche modo è stato un po' offuscato dalla memoria di due successori, pensiamo a Pollio, pensiamo a Cadorna, che hanno un po' cannibalizzato la memoria di Saletta. Ma andiamo proprio ad analizzare Saletta. Artigliere piemontese del vecchio stampo, austero, dritto, scrupolosamente rigido nell'adempimento dei suoi doveri, ma carattere duro, difficile e più temuto che amato dai suoi dipendenti. Il suo nome è legato al nostro primo sbarco a Massavo del 1885, quando ebbe il comando del nostro piccolo corpo d'occupazione, comando che tenne con ferma mano e con onore e che riebbe poi una seconda volta dopo l'eccito di Dogali, nel gennaio 1887, avvenuto sotto il suo successore generale Genè. Quando dopo la giornata di Adu del 1 marzo 1896 il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Primerano, venne esonerato dalla carica, il Saletta fu chiamato a succedergli e in quella carica restò per ben 12 anni, coincidente all'inizio con un periodo non facile della nostra preparazione militare per la generale depressione degli animi connessa alla sventura di Adua e per la deleteria influenza delle correnti politiche antimilitariste. Ma verso il termine della sua missione, allorché lo spirito militare e le condizioni economiche del paese accennarono a un provvenziale risveglio, l'alta sua azione direttiva poté manifestarsi con maggiore efficacia favorita, se non dalle sue doti intellettuali che non erano superiori alla media dal suo forte carattere e della sua inflessibile volontà, tutta tesa al progressivo miglioramento delle condizioni del nostro apparato militare. A lui si dovettero infatti i primi provvedimenti per rafforzare le difese della nostra infelice frontiera nord-orientale, fino allora totalmente trascurata, nonché un notevole sviluppo impresso alle grandi esercitazioni estive con le truppe che egli volle plasmare sullo stile delle grandi manovre imperiali germaniche, cui aveva assistito per l'invito di l'imperatore Guglielmo II. Non aveva qualità eccezionale di organizzazione militare, ma l'alta autorità che si era conquistata con austerità e fermezza del suo temperamento gli permisero tra il 1903 e il 1908, data nella quale lasciò il servizio attivo per età, di gettare le basi su cui il suo giovane e valente successore generale Alberto Poglio poté poi dare un ben più illuminato impulso alla nostra preparazione bellica, mentre l'ambiente internazionale andava facendosi sempre più denso di oscure minacce di guerra. Ecco quindi comprendere come la figura di Saletta sia imprescindibile per comprendere poi l'evoluzione dell'esercito italiano sia nel periodo della guerra di Libia, ma anche verso quello che sarà appunto la proiezione verso la grande guerra con gli elementi di base. Sulla grande guerra ne abbiamo parlato tanto anche in questo canale e se ne parlerà ancora tanto sul discorso della preparazione tecnica, della preparazione anche di dottrina per una guerra di lunga durata. Sappiamo come l'esercito primpiemontese e quello italiano avevano avuto degli spiragli di breve durata, le campagne appunto risorgimentali erano state per lo più combattute in periodi di bella stagione, in cui vi erano anche dei supporti di altre, di collaborazioni con altre forze armate, di altri paesi. Pensiamo appunto alla Seconda Guerra Mondiale con l'intervento francese, pensiamo alla Terza Guerra Indipendenza con un indiretto appoggio tedesco, anche se poi sappiamo com'è andata la guerra. E questo ci offre anche l'occasione di ripensare un discorso di più lungo periodo sulle disponibilità, sulle opportunità dell'esercito italiano nel periodo che arriva appunto al 1914 e poi al 1915. Quindi secondo me era molto interessante affrontare questi due personaggi che ci danno anche l'occasione per riflettere su un periodo che spesso viene trascurato della nostra storia militare e della sua storia in genere. Per la prossima puntata vi anticipo già i capi militari della guerra Libia, quindi altri personaggi, altri generali che in qualche modo hanno dato un contributo notevolissimo a quella campagna che, seppur contraddistinta da fasi alterne, che appunto ebbe poi sostanzialmente tre fasi in cui non fu una passeggiata di salute, fu vinta diplomaticamente perché poi la situazione della Libia fu gravata da condizioni geografiche, etno-ambientali difficoltosi che avrebbe poi portato all'effettiva occupazione di tutta la colonia soltanto all'inizio degli anni Trenta, ma che ci offre anche l'interesse per un discorso di più ampio respiro in cui la logistica, in cui la proiezione oltremare sono fondamentali per comprendere anche l'evoluzione stessa di una forza armata che ha non solo la vocazione in quel momento di difendere l'arco alpino, ma che in qualche modo ha la vocazione di andare a crearsi quel famoso giardino di casa che inevitabilmente era al di là delle sponde del Mediterraneo. Ovviamente questo senza volontà apologetica, questo vi lo faccio in maniera del tutto tecnica, del tutto critica nell'analisi appunto di un fenomeno come appunto potrebbe essere quello di geopolitica coloniale, geopolitica di suddivisione nel grande gioco diplomatico delle potenze. Detto questo, come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!